Lavori idrici importanti, quelli che sono in corso nel centro di Taranto per conto dell'acquedotto pugliese. Una serie di manutenzioni indispensabili a sostituire antiche condutture idriche che presentano gravi problematiche di usura con relativa perdita della preziosa acqua potabile. Dicevamo, lavori in corso, con qualche disagio in più naturalmente, ma con la speranza del ripristino ad arte del manto stradale. Insomma, dimenticare un passato di buche e avvallamenti ingiustificati. Oggi a Coppì sembra entrare in un nuovo corso, come ci dice Lucio Lonocce, consigliere di amministrazione di Acquedotto Pugliese. Questi sono lavori molto ma molto importanti per l'abitato di Taranto, che vanno in cerca intorno ai 4 milioni di euro, ma non solo. Questo è un risanamento di rete idrica non solo nel centro Umbertino, ma anche per la provincia, quindi che vanno in cerca sui 11 milioni di euro. Sono lavori importanti perché vengono effettuati sui marciapiedi, all'interno delle strade e quindi abbiamo cercato di creare quanto meno disagio verso i cittadini, però sono lavori che bisognava effettivamente farli. Come si vede nelle immagini, qui ci ritroviamo all'angolo di Via Crispi con Via Oberdan. Siamo in pieno centro cittadino. I lavori si sposteranno sempre più verso est. Verranno fatti altri lavori su Taranto e provincia, come quello di Gennarini, come quello delle pulizie dei tronchi fognari. Quindi siamo in piena attività. Ringrazio i tecnici ancora una volta per il loro apporto.